I prodigi del pensiero positivo di Amadeus Waldben 83esima lettura Quando vuoi correggere un altro Il progresso da te compiuto ti serva per portare aiuto a chi ritieni ne abbia bisogno Poiché il potere cresce vi più che vai progredendo devi essere consapevole che devi adoperarlo per il bene Chi pensa di non poter fare nulla e si acquieta nell'ignavia o peggio chi adoperasse per il male farebbe il gioco delle forze negative che circondano la terra e gli uomini Se ti accade di dover correggere un tuo simile vedi di farlo mentalmente affermando Presenza divina Prendi il comando della mente e del cuore di questo fratello Inducilo alla tua obbedienza Mantienilo nel tuo dominio e donali tutto ciò che gli ha bisogna materialmente e spiritualmente perché raggiunga la piena liberazione Non criticando non condannando non giudicando ma solo amando di puro amore potrai avvolgere te e gli altri in una serena luce di splendore Ma con tutto amore che si sprigiona dal potere divino in te che sa dissolvere ogni odio e ogni rancore La dolcezza è indice della maturità del frutto Non essere mai aspro ma sempre dolce Soprattutto quando mostri ad un altro i suoi effetti Vi sono malattie morali peggiori e più gravi di quelle fisiche Queste conducono alla morte allo stesso modo che la mancanza di fede nei valori più alti porta spesso a una vita di vizio o alla disperazione Il vizio rende schiavi legando con catene che impediscono la vera libertà dei figli di Dio Uomini che potrebbero progredire anziché attardarsi nella loro prigione Essi hanno bisogno di aiuto E' vero che la liberazione va realizzata da loro stessi Ma un'idea, un suggerimento può essere di grande vantaggio e utilità A questo fine può servire la trasmissione di pensieri di luce Il segreto per convincere qualcuno su un dato argomento è metterli in testa un'idea Quando non puoi farlo con le parole, l'azione del pensiero può essere utilissima a questo scopo Se vuoi suggerirgli un comportamento corretto, devi per primo drammatizzare le conseguenze nefaste del comportamento vizioso Puoi fare questo proiettando immagini di situazioni che sono le conseguenze del suo agire sbagliato Questa proiezione va trasmessa con forza a chi vuoi aiutare Poiché sarebbe utile farlo se la persona si trovasse in uno stato di agitazione Bisogna cogliere il momento adatto, cioè mentre dorme o si trova in uno stato di rilassamento I pensieri che riceve da te crederà che siano i propri Per questo sarà più facile che producano l'effetto desiderato Come lo facciamo in noi stessi sostituendo pensieri negativi con quelli positivi Possiamo farlo negli altri irradiando i loro pensieri positivi Che andranno a sostituire quelli negativi che sono la causa dei loro mali Abbiamo già accennato alla capacità che hanno i pensieri di trasformare l'uomo Colorando la vita del loro stesso colore Nero o limpido Buono o cattivo Secondo quali di essi introduciamo nella mente e soprattutto quelli che intratteniamo L'uomo risvegliato ai valori reali della vita e che ha compreso lo scopo della propria esistenza Rivolge la propria scelta nella direzione del bene Compresa la potenza del pensiero costruttivo abbandona le vecchie abitudini Che lo facevano schiavo dei pensieri banali che governano la mente e tutta la vita Gli stati mentali possono essere prodotti anche in altri e comunicati ad altre persone Si può alzare o abbassare la propria vibrazione O quella di altri Cambiare i propri stati mentali manovrandoli da padrone non subendoli da schiavo Come il medico ha in cura degli ammalati ai quali presta le sue cure quotidiane Anche tu abbi sempre qualcuno o più persone alle quali ogni giorno invii il tuo pensiero Preferibilmente la sera al momento del riposo Cerca di visualizzare quelli che hai sotto cura e proietta loro pensieri adatti alla situazione particolare di ciascuno Questa trasmissione arriverà alla stazione ricevente in ogni modo Se tu ti alleni con amore e costanza in questo esercizio Constaterai dei risultati sorprendenti che toccherai con mano Vedrai che cosa può il pensiero quando è impegnato in opera d'amore per il bene del prossimo Vedrai il bene che si può fare anche senza muoversi dalla propria stanza Potrai dare suggerimenti Frenare altri da azioni inconsulte e malvagie Aiutare e confortare Suggerire buone azioni Dare avvertimenti utili Se lo facessi da persona a persona come nelle relazioni estere quotidiane Forse non ti ascolterebbe Ti contrasterebbe Forse ti respingerebbe Invece parlando alla sua anima La porta è aperta e l'effetto più sicuro Chi l'ha esperimentato lo proclama un metodo efficace La comunicazione con gli altri a distanza si può effettuare senza che nessuno l'interessato lo sappia Che neppure l'interessato lo sappia Vi è chiusa questo metodo della proiezione di pensieri ogni giorno Si concentra la propria mente e si proietta il pensiero di aiuto O il suggerimento sulla persona o sul luogo dove vi siano sofferenti o bisognosi di aiuto I pensieri che vanno trasmessi sono proposti non imposti Questo è molto importante Abusare del potere e del pensiero per inculcargli a forza Sarebbe violare le leggi di natura e la libertà della persona Ciascuno è libero di proporre le proprie idee Di esporle ma mai di imporle I veri maestri non impongono mai Ma espongono Propongono ai discepoli la scelta Che rimane sempre liberissima Che rimane sempre liberi